Il Covid Hospital della Fiera di Levante potrebbe essere smantellato entro metà ottobre, ovvero prima dell'inizio della nuova edizione della campionaria barese, già slittata di oltre 30 giorni a causa delle elezioni di settembre. E' quanto dovrebbe prevedere la delibera del Policlinico di Bari, firmato lo scorso 3 agosto, che ha approvato le procedure della gara di appalto per il trasferimento dei macchinari dall'ospedale di Via Verdi in altre strutture sanitarie. Un atto dovuto, ma che è sostanzialmente propedeutico al trasloco e quindi alla chiusura definitiva del centro di emergenza. Dannoso come barese, fanno sapere che le tempistiche del trasferimento non sono state ancora definite, ma adesso è tutto pronto, quasi. 715 mila euro circa i fondi che sarebbero stati stanziati per l'operazione, che dovrebbero essere sufficienti a suotare la struttura. Entro il 31 dicembre gli spazi in fiera dovranno essere liberati, ma non escluso che il centro possa essere smantellato in largo anticipo, magari prima che inizi la campionaria a metà ottobre, anche se le attività chiederanno tempo anche in virtù del fatto che al momento all'interno dell'ospedale ci sarebbero ancora una quindicina di pazienti. Bisognerà capire quale sarà la situazione a settembre con la ripresa di scuole e altre attività al chiuso e le varianti che la fanno da padrone. Intanto sull'ospedale Covid in fiera è ancora in corso un'inchiesta penale avviata dalla procura di Bari e che vede indagato anche l'ex capo della protezione civile Mario Lerario. Il reato ipotizzato è di concorso in turbativa d'asta e falso. L'indagine è coordinata dal procuratore capo Roberto Rossi e dall'aggiunto Alessio Coccioli. Due mesi fa, proprio in vista della chiusura della struttura, la procura ordinò una ispezione per le valutazioni di carattere tecnico occorrenti ai fini dell'accertamento delle ipotesi di reato.